Gesù amava molto stare con i bambini non era mai d'accordo se qualcuno li mandava via da lui Gesù guarì anche dei bambini malati un giorno fu chiamato dai genitori di una bambina che era molto malata Gesù li seguì entrò in casa prese la bambina per mano e le disse di alzarsi la bambina stava di nuovo bene un giorno tante persone avevano seguito Gesù per ascoltarlo e Gesù voleva dare loro da mangiare perché avevano tanta fame fu un bambino a portare del pane e del pesce e Gesù li moltiplicò e ci fu da mangiare per tutti mentre Gesù parlava alle persone chiamava spesso i bambini a sé a Gesù piaceva molto la compagnia dei bambini e anche la famiglia della bambina a lei a lei ha a lei